Visita tedesca al Polo Museale Civico di Cirignola lo scorso 8 ottobre. Una delegazione guidata dal professor Ammar dell'Università tedesca di Kassel e del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari ha visitato il Polo Museale Civico al Piano delle Fosse a Cirignola nel Foggiano. Gli ospiti hanno rivolto interesse alla sala che ospita il Museo del Grano e in particolare al settore dedicato alle varietà di grano dell'Istituto Sperimentale per la Cere e Alicoltura. Hanno molto apprezzato sia la sala multimediale e sia la riproduzione della fossa granaria. Il professor tedesco ha rilevato l'ultima conservazione dell'intero piano delle fosse granaria. Tra le prossime iniziative in programma, venerdì 16 ottobre nella sala convegni del Polo ci sarà la presentazione del libro del professor Serbino De Quaccendis presidente dell'Archeoclub di San Bernardino di Puglia dal titolo della Cività del Grano nella Daunia dal Neolitico ai Giordi Nostri.